E questo cos'è? Cioè, i rumori diventano Instagrammi e quello che dico diventano frasi scritte? No. No, ok, no, ho sbagliato. Comunque benvenuti a tutti quanti in questo nuovo video, il primo di questo canale che fino a qualche anno fa trattava praticamente solo di un'orchestra che suonava in giro per il mondo, ma che recentemente è diventato qualcosa di più perché ho iniziato ad aggiungere della musica ragazzi free e in questo caso è il primo video in cui ci metto qualcosa di veramente mio, ovvero la voce, la faccia no, eh? Parlandovi di una delle colonne sonore che raputo in assoluto più fighe messe quest'anno in una sequenza di una serie tv. serie tv abbastanza particolare perché reinterpreta con personaggi in carne ed ossa una serie tv anime di fine anni 90, Cowboy Bebop. e in particolare in questa sequenza troverete un brano che si intitola Lord of the Empty. Troverete tranquillamente su Spotify e molto probabilmente potrete usarlo anche nelle vostre stories di Instagram. Ma la sequenza in assoluto è, sia dal punto di vista della fotografia sia dal punto di vista della colonna sonora, in assoluto la più efferata e criminale che abbia visto nel 2021 su Netflix. Quindi mettetevi comodi e godetevi questa scena di Cowboy Bebop in carne ed ossa. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 E con estremo disappunto è giunto il momento di salutarci Chiedendovi ovviamente di iscrivervi a questo canale E di commentare questo video con la voce che secondo voi sta narrando in questo momento E chi indovina vince niente non vincerete niente Assolutamente niente Grazie a tutti